La Giunta Toscana dovrà proseguire per quanto attiene alle azioni di propria competenza e all'interno del più ampio procedimento complessivo nell'iter realizzativo della nuova pista parallela dell'aeroporto di Peretola nell'ambito dell'organico sviluppo del sistema aeroportuale toscano. Lo chiede una mozione presentata da Italia Viva con primo firmatario il capogruppo Stefano Scaramelli emendata dal Partito Democratico e approvata a maggioranza dall'Aula. L'obiettivo dell'impegnativa è valorizzare le diverse vocazioni dei due scali, quello fiorentino e quello pisano, con profili di traffico complementari tra loro, dando impulso contestualmente alla crescita economica del territorio, utile anche a fornire risposta ai bisogni specifici dei borghi di Peretola, Brozzi, Quaracchi e le piagge. Presentandolo in aula, Stefano Scaramelli ha parlato di un atto molto vecchio ma attuale che prevede un importante investimento per la nuova pista dell'aeroporto Vespucci. Ho appreso con soddisfazione della mozione approvata in consiglio regionale sull'aeroporto, ha commentato il sindaco di Firenze Dario Nardella, con gli investimenti necessari per la nuova pista che Toscana Aeroporti dovrà fare, ha continuato il sindaco, guadagneremo efficienza per tutta la Toscana e miglioreremo la qualità della vita di 60.000 fiorentini sorvolati ogni giorno ad altezze inferiori ai 100 metri. La mozione ha ribadito giustamente l'intenzione della Regione, ha concluso il primo cittadino di Firenze, di contribuire al processo di realizzazione della nuova pista secondo le proprie competenze, con i necessari provvedimenti di autorizzazione.